5, 6, 7, 8, 9, 10, arrivo! Ma sei ancora lì? Ovedea, facciamo uno scherzo papà. La mamma non vuole che gioca dove c'è tanta polvere. La sorella dov'è? È andata con la mamma. Sto soppocando, apri, apri! Torniamo alla tragica notizia con cui abbiamo aperto il TV. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS